Nella Romagna, seconda posizione la coppia formata da Tosca, Mazzarolo, Giacomo, Barbone, ai sediti in Diablo, Veneto. Terza posizione per Giulia Petitto, Riccardo Filippini, ai sediti in Diablo. Quarta posizione per Sofia, Providenti, Alex, De Veta, ai sediti in Diablo, Friuli, Venezia, Giulia. In quinta posizione Lina Marzon, Giacomo, Lotto, Tintense, Europa, Veneto. Sesta posizione per la coppia formata da Rachele Pumo, Marco, Marchia e Sd, di Diablo, Emilia Romagna. Dieci, undici, altri, vinto.